7.403 positività registrate nelle ultime 24 ore in Veneto e record per la regione che non aveva mai visto un numero così elevato di contagi da inizio pandemia. Dato che però va analizzato guardando l'ospedalizzazione, che è un terzo rispetto allo scorso anno, quando però i contagi erano inferiori ad oggi, con un 80% dei pazienti ora in terapia intensiva non vaccinati e in area medica uno su due non è immunizzato. Ieri il presidente del Veneto, Zai, ha avuto un confronto con il ministro Speranza, al quale ha chiesto che venga modificato il sistema delle quarantene. Noi non possiamo andare al collasso con i tamponi, sapendo che parte di questa attività, con questa circolazione del virus, con queste caratteristiche, rischia di essere inutile. Questa mattina noi abbiamo 7.000 persone, le quali potrebbero rispondere in via virtuale alla telefonata che hanno avuto 10 contatti a testa. Mandiamo 70.000 persone ogni giorno in quarantena. Dal Veneto un appello al governo, che ha convocato per domani il comitato tecnico scientifico, chiamato a pronunciarsi proprio su questo. Di mettere in quarantena è sicuramente positivo, di non quarantenare i vaccinati, partendo da quelli della terza dose, e quando c'è un contatto da mettere in quarantena, si parta dal presupposto che non serve fare il tampone, perché tanto se... quindi il tampone dovrebbe essere destinato a questo punto, con questi numeri, al contatto che è sintomatico. C'è poi un altro problema che secondo Zaia non va sottovalutato. Reagenti e materiale sul mercato, perché con questa esplosione di richiesta, io non so fino a che punto ci sarà un mercato che risponde. Intanto, dai dati sul campo, sembra che Omicron per i vaccinati si stia raffreddorizzando, diventando quindi meno aggressiva. Un terzo di ospedalizzazione vuol dire innanzitutto che il vaccino funziona. Secondo, che se ci sono vaccinati che si infettano, comunque si limita a sintomi da paucisintomatico. Questo è il grande vantaggio, perché se oggi non avessimo i vaccinati, saremmo chiusi e staremmo qui tutto il giorno a contare morti. E c'è un'altra sfida all'orizzonte per quanto riguarda le vaccinazioni. L'anticipazione al quarto mese per la Dolce Booster e l'anticipazione della durata del Super Green Pass a sei mesi, ci porta a noi per fine febbraio due milioni di persone da vaccinare.